L'Associazione dei familiari delle vittime della strage dei georgofili ha donato alla Casa della Memoria, dedicata ai misteri e alle stragi d'Italia, i preziosi documenti relativi agli atti del dibattimento sugli attentati mafiosi del 1993. La strage dei georgofili è avvenuta a Firenze nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 ed è costata la vita a 5 persone, tra cui 2 bambine. Vogliamo che questi documenti siano letti, sono documenti pesantissimi ed difficili, anche noi li abbiamo nel nostro sito, ma capiamo quanto possa essere difficile andare a aprire un sito come il nostro a leggere simili processi se non a quelli che sono del mestiere. Auspichiamo che nel centro di legalità della cultura della legalità della regione toscana vi sia un afflusso soprattutto di giovani e di ragazzi. E a proposito di ragazzi, gli studenti del liceo scientifico da Vinci di Firenze parteciperanno a un laboratorio di archivista incentrato proprio sulle carte donate alla Casa della Memoria di Firenze. Un'occasione per questi giovani per... Sentirsi parte di una cosa che non hanno vissuto, neanche ce l'hanno nel ricordo, è molto più bello se si fanno protagonisti di un lavoro, insomma, avere a disposizione un archivio, metterci le mani, ricostruirlo insieme ai nostri addetti, credo sia una cosa buona. Questo centro di documentazione su stragi e misteri italiani è nato nel 1994 e a sede all'ultimo piano di Palazzo Strozzi Sacrati. Vi sono conservati, tra gli altri, documenti che riguardano le Brigate Rosse, il rapimento di Aldomoro e la P2 di Licio Gelli.